Musica Bentrovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di venerdì 3 febbraio. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che sulle regioni settentrionali e con le tirreniche avremo condizioni di tempo instabile e perturbato con possibilità di piogge e rovesci, mentre sulle regioni del medio e basso Adriatico avremo condizioni di tempo generalmente più stabile. La ventilazione media proverrà dai quadranti meridionali e i mari risulteranno generalmente mossi e molto mossi, ad eccezione dell'Adriatico che risulterà poco mosso. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche risulteranno stabili su gran parte del territorio, tuttavia nel corso del pomeriggio e della sera assisteremo ad un lieve peggioramento che apporterà deboli piogge e nevicate al di sopra dei 2000 metri di quota, mentre lungo la fascia orientale della nostra regione le condizioni meteorologiche risulteranno stabili e accompagnate da cieli nuvolosi. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Grazie per la visione!